Sono felice di tornare nella città di Bari che altre volte mi ha visto protagonista di eventi politici, culturali, istituzionali, sin da quando qui era uno dei principali esponenti della destra italiana che ha insegnato a noi cosa fosse la destra di governo. Mi riferisco ovviamente a Pinuccio Tattarella. Il mondo delle illusioni è finito. Il mondo dell'ideologia è incapace di leggere la realtà e di predisporre, di preparare il futuro. Liberiamoci dai paraocchi. Liberiamoci dalle illusioni che rischiano di diventare dei disastri. E noi italiani ci siamo portati avanti realizzando già un decreto legge che consente finalmente di estrarre dal nostro sottosuolo le materie prime critiche che servono. 34 conteggiate dalla Commissione, di cui molte sono in questo sottosuolo. Parlo del litio, del cobalto, del manganese, alcune terre rare. Ne abbiamo almeno 16, delle 34 nel sottosuolo italiano. E insieme abbiamo indirizzato la Commissione a fare un regolamento molto sfidante, che ora è in vigore. E poi abbiamo fatto un decreto legge, perché questo governo si porta avanti. Un decreto legge che consente finalmente di estrarre nel nostro sottosuolo le materie prime critiche che servono a realizzare tecnologia green e tecnologia digitale. E a realizzarli in Italia, in Europa, per evitare di cadere dalla subordinazione al carbon fossile russo che stanno pagando a cara prezzo gli ucraini e noi con loro, centinaia di migliaia di morti, a una peggiore e più grave subordinazione alle materie prime critiche e la tecnologia green e digitale, per garantire oltre che lo sviluppo e il benessere dei nostri cittadini anche la nostra libertà e la nostra indipendenza.